Muoversi a seconda delle stagioni. Era l'abitudine dei migranti che andavano a lavorare per un certo tempo lontano da casa, accumulavano denaro e poi tornavano. Il periodo in genere era solo di qualche mese, per questo si parla di emigrazione stagionale. Si partiva in base a specifiche richieste di mano d'opera e si rientrava al lavoro concluso o quando le condizioni meteorologiche non consentivano di proseguire. Poi si riprendeva la stessa strada l'anno successivo quando il clima tornava favorevole. Tipici in questo caso alcuni mestieri esercitati dai bellunesi all'estero o in altre parti d'Italia. Seggiorai, baglie, cromer e cromere, ciode, zattieri, scalpellini, gelatieri. In questa lezione parliamo degli scalpellini. Inventiva, pazienza, spirito d'osservazione e abilità tecnica erano queste le caratteristiche che doveva possedere un buon scalpellino, mestiere tipico della zona di Castellavazzo a Longarone. Le nocche delle loro dita, spiegava nel 1962 Gianni De Vecchi, studioso di storia locale bellunese. Erano callose perché battevano la roccia e la sentivano, abbandonando la lasta, il blocco, lo strato, la lasta marcia per strappare infallibilmente la lasta sana. Lavoravano la pietra modellandola a colpi di scalpello per dar forma a scalini, fontane, pavimenti, cornicioni, monumenti, lapidi, colonne, capitelli, iscrizioni, decorazioni, che spesso erano vere e proprie opere d'arte. Erano in verità scultori, assicuro infatti Gianni De Vecchi, capaci di eseguire qualsiasi lavoro in pietra. Per le difficili comunicazioni del tempo vivevano pressoché isolati, lontani dai centri culturali e artistici. Ciò nonostante, la loro mano non ebbe nulla da temere nel confronto con gli scultori di Roma e di Firenze. Proprio gli scalpellini di Castellavazzo, le cui capacità si erano affinate fin dai tempi antichi nelle cave locali, diventano famosi in Italia e nel mondo. Il loro ingegno e le loro mani erano richiesti in Europa, in Africa, nelle Americhe e in Asia, tanto che delle loro opere rimane traccia in Francia, in Svizzera, in Germania, in Libia, in Etiopia, in Austria, in Ungheria, in Turchia e in Persia, l'attuale Iran. E parlando di scalpellini non possiamo non parlare di Geremia, che ha scolpito l'America. Se è vero, infatti, che il lavoro degli scalpellini era tipico soprattutto di Castellavazzo e del Longaronese, ciò non toglie che si sia diffuso e abbia coinvolto anche altre aree del Bellunese. Partì dal comelico, ad esempio, Geremia Grandelis, scultore più che scalpellino, a dire il vero, scultore di grandi complessi monumentali in marmo e in bronzo, che ancora oggi decorano alcuni dei più prestigiosi palazzi pubblici in America. Nato a Campolongo, Santo Stefano di Cadore il 10 luglio 1869, fin da bambino dimostrò il suo talento. Si narra che a soli nove anni abbia scolpito con il temperino due statue in legno, alte più di un metro. Raffiguravano San Giacomo Minore e San Giacomo Maggiore. Delle sue abilità si accorse uno scultore già affermato come Antonio Dalzotto, che convince il padre di Geremia a farlo studiare. Eccolo nel 1881 a Venezia a farsi le ossa nello studio dello scultore Guglielmo Michiedi. Racconta Giovanni Fabiani nell'omaggio a Geremia Grandelis, scultore italo-americano, libro del 1987. Notte disegnava vignette e caricature da pubblicare in giornali e riviste. Di giorno frequentava l'accademia e lo studio del suo maestro. Maestro che, come la tradizione, venne presto superato dall'allievo. Nel 1886 Geremia esposa la prima biennale di Venezia e ottenne il primo premio nella sezione umoristica proprio davanti al suo insegnante, che finì secondo. In anticipo sui cervelli in fuga, nel 1893 fece le valigie diretto a New York. Il nuovo mondo collezionò un successo dietro l'altro realizzando lavori che lo reso celebre e apprezzato in tutto il Nord America. 500 teste grottesche per il Metropolitan Opera House, il teatro d'opera più grande del pianeta. Le decorazioni interne e i portoni di bronzo per la cattedrale di Washington. Le statue del tempo e della gloria per il parlamento di Ottawa in Canada. 12 statue per la biblioteca di New York, il portale in bronzo e diverse decorazioni per quella di Philadelphia. Il monumento in onore di Abraham Lincoln, il sedicesimo presidente degli Stati Uniti. I piloni monumentali per la bandiera della città di New York e tanti altri capolavori. Morì il 2 novembre del 29 a Bear Ten Boy nel New Jersey, dove tuttora riposa accanto al figlio. E se volete saperne di più sugli scalpellini e su Geremia Grandelis potete consultare alcuni libri. Il dizionario del dialetto ladino di Campolongo di Cadore, raccolto con il contributo di Italo De Candido, che contiene anche l'omaggio a Geremia Grandelis, un libro dell'Istituto Bellenese di ricerche sociali e culturali. Oppure ancora Scalpellini e tagliapietre di Michele Bernardon. Scalpellini e tagliapietre dal Friuli occidentale nel mondo. Altro libro che potete consultare sulle tracce degli scalpellini di Luisa Manfroy. Grazie a tutti. Grazie a tutti.